Forse una distrazione, un sorpasso azzardato oppure un malore. L'auto nera invade l'altra corsia e si schianta contro una Fiat Punto che viaggia sul lato opposto. Chi ha assistito al terribile incidente stradale avvenuto poco prima delle 14 sulla stradale 85, all'altezza dello svincolo Isernia-Santo Spirito, racconta di aver udito un boato. E poi le schegge sull'asfalto, l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre le occupanti delle due vetture dagli abitacoli, il traffico in tilt per quasi due ore. Il bilancio alla fine sarà di due donne ferite in modo grave, ma non in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei tanti automobilisti che in quel momento erano incolornati nel traffico, è stata la Nissan Micra a scatenare lo schianto, finendo a forte velocità contro la Fiat Punto. Non è chiaro al momento cosa abbia spinto la donna sulla Nissan nera a invadere l'altra corsia. Sta di fatto che gli aggetti della stradale, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri e vigili del fuoco, non hanno rilevato segni di frenata sull'asfalto. Le indagini della stradale faranno chiarezza sulla dinamica dell'incidente. Le due donne ferite, una di 49 anni e l'altra di 66, sono state trasportate dal personale del 118 al Veneziale di Sernia, dove sono attualmente ricoverate.